lunedì 14 marzo a rete la luna in leone vi consente di iniziare la settimana lavorativa con il passo giusto con i sestili di venere e di marte poi sarà quasi un gioco da ragazzi se i vostri gli altri obiettivi non coincidono andate avanti da soli senza l'aiuto di amici e amori toro un vorticoso minuetto con la luna in leone che attenta alla vostra tranquillità occhio alla tentazione dello shopping le riserve piangono non fatevi abbagliare da traguardi improbabili quando avete qualcosa di concreto a portata di mano gemelli giornata ad attraversare con grinti ottimismo fonte di ricarica le persone care che vi tengono una mano per uscire dalla palude della quotidianità ammorbidite i toni durante una discussione in famiglia alzare il volume non garantisce che sarete ascoltati cancro buono il livello di energia e di efficienza ma i sentimenti sono latitanti avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà svolte lavorativi all'orizzonte ma non premete sull'acceleratore state in campana nelle amicizie leone qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile soprattutto se permetterete a familiari e parenti di intromettersi nella vostra vita affettiva economia nell'occhio del ciclone tassativamente vietato darsi alle spese folli godetevi le piccole cose vergine l'amore si prende beatamente una pausa le chance di incontri appetibili sono scarse le storie fugaci non sono escluse ma non andrete oltre il flirt decisioni per il futuro forse un po rischiose non vanno presi a cuor leggero ma non esagerate nella riflessione bilancia con il favore della luna e leone immagine successo sociale risultano tangibili riscuotete con gratitudine ammirazione e rispetto fate leva sulla vostra capacità di persuasione per risolvere presto una penosa e forse datata di atriba scorpione l'umore è altalenante ma evitate gli atteggiamenti di chiusura ora più che mai avete bisogno dell'appoggio della stima e del conforto degli altri se avete appena catturato un nuovo cuore ne vivrete gioie e tormenti mentre acquista spessore e stabilità sagittario con la luna nel leone calore dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi affari e viaggi siete in una botte di ferro un viaggio di piacere porterà sorprese forse non incontrerete l'anima gemella ma vi divertirete un mondo capricorno mantenetevi mentalmente flessibili invece di irrigidirvi sulle vostre idee la fantasia non è nemica della logica bensì il suo complemento innanzitutto chiaritevi le idee quindi sforzatevi di raggiungere una maggiore comprensibilità nelle sporle acquario con il partner non intestarditevi su questioni di poco conto cercate piuttosto di badare alla sostanza il sentimento profondo che venisce dovrete affrontare faccende delicate ma se non vi darete subito per vinti troverete soluzioni efficaci pesci tante le questioni su cui riflettere con calma e ponderazione mettendo da parte intenzioni di rivalza reazioni emotive e scatte di nervi che non aiutano dal confronto scontro con un familiare se vi disponete all'ascolto possono emergere intuizioni preziose